Questo si collega all'altra cosa che ti volevo chiedere. Tu adesso hai sviluppato tutta questa cosa di fare l'attrice comica, cioè fare personaggi che fanno ridere in televisione. Questa cosa l'avevi già pensata? Cioè hai pensato voglio recitare, avevi pensato una delle vie che posso prendere è quella comica, i monologhi che ti scrivevi per andare a Pedigree erano comici oppure poi ti sei accorta che sapevi recitare e sapevi anche far ridere? Cioè non solo facevi riflettere ma anche facevi ridere. Ti ringrazio molto. Prima di rispondere ti volevo leggere due cose che ho googlato, a parte c'è una pagina Wikipedia. Hai capito? Tu non mi davi di ulire, invece sono pure su Wikipedia. Ma infatti io volevo fare questa domanda. Come si fa ad avere una pagina Wikipedia? Guarda io ti garantisco che non è nessuno. Che ho pagato 2000 euro. A un certo punto è uscita, durante battute. Durante battute. Vedi che bello. Allora io mi sono... Inizia così la tua pagina Wikipedia. Emanuela Fanelli... E questo è uno che proprio ha studiato tantissimo per scriverla. Emanuela Fanelli inizia la sua carriera a teatro in adolescenza. Sì. Poi fa... Collabora con diverse compagnie, prendendo parte e ha messi in scena di tipo classico, per poi tentare una strada più attuale con testi scritti da lei. Dopo anni di gavette in teatro e nei centri sociali romani, viene notata in un locale della capitale mentre legge alcuni suoi monologhi. Questa è l'introduzione molto bella, molto generale, diciamo. Ma anche un po' una piccola cenerentola del nostro mondo dello... Mi piace questa lettura. Però questo si collega alla cosa che sta scritta, questa è un po' su My Movies, che... Ah, quello mi ha scritto una cosa... La Fanelli si sta ritagliando uno spazio importante... Posso leggere? Ma perché lo dici ridendo? Posso dire che mi potrei anche offendere? No, no, no. Già su La Fanelli ti viene da ridere. No, no, no. Vai, vai, leggi. Allora, La Fanelli si sta ritagliando uno spazio importante nel mondo dello spettacolo qua da interprete di ruoli che fanno ridere il pubblico, tra virgolette. Della serie, ma poi manco troppo. Definibile dunque comici. Dei ruoli definibili dunque comici. Pur non essendo di per sé una comica, non essendo né brutta né goffa, anzi, avendo una fisicità tutt'altro che vicina alla comicità, soprattutto senza ridurre varie parole a delle macchiette. Allora, messaggio a My Movies, ma chi cazzo ve scrive? Allora, guarda, io quando l'ho letto un po' sono rimasta così. Ho capito che era un complimento. Sì, 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 era un complimento, però... Però già le virgolette fanno ridere. No, le virgolette, poi... Non è comica non essendo né brutta né goffa, ma chi te conosce? Ma che vuole questo? Sì, ma poi non lo so un po' l'idea della comicità. Ho fatto il cesso a pedali, non lo so. Sono la moglie rompicoglioni, guarda che mostro! Sono la brutta della commedia, nessun uomo mi vorrà, eh. Mi che so qua la figa che passa la prima. Che fa la protagonista ma non parla. Io so ruolo comico. No, allora, io ho capito il complimento. In realtà questo dà un po' modo di parlare anche dei ruoli femminili. Sì. Volendo. Volendo facciamo. Non è che a te scrivono o a Rapone che siate obiettivamente due gran bei ragazzi, non è che dicono fanno ridere anche senza essere brutti. No, non lo scrivono. Non lo scrivono. Se lo devi sottolineare, evidentemente... Noi tre ci fa ridere, però se uno sente il bisogno di dirlo e di sottolinearlo c'è un motivo. Forse perché è un po' l'umorismo, soprattutto femminile, mi vuole dire questa cosa orribile, che non esiste, però diciamo le donne che fanno ridere sono sempre state considerate un po' poco appetibili. E spesso anche loro hanno giocato su quello. Cioè spesso dei monologhi comici femminili vertono molto sul fatto che, che ne so, sto sovrappeso. Non lo so, mi viene da dire oh, gli uomini non mi vogliono, gli uomini sono tutti così. E quindi vedere una che magari è carina, poi non è che io, Charlize Theron, allora fa il cortocircuito, dice oddio mio, questa dovrebbe puntare sul fatto di essere la più bella del mondo e invece fa ridere. No, io sono carina. E magari posso far ridere, però già lo sottolinei. Questo dipende un po' dall'abitudine in realtà. Cioè io non ci faccio caso, non credo neanche voi, però forse una fetta grande di pubblico sì. No, infatti è, sì, far ridere ma anche riflettere. Far riflettere, questa cosa. Che senta il bisogno di dire che non sei comica, non essendo né brutta né goffa. Ma io sono contenta, infatti, uno dica che non sono né brutta né goffa. Intanto te porti a casa e il complimento. E io intanto questo. E poi a tintoria dici, però le donne vengono viste male e l'hai sfangata. Però comica, quando tu dicevi la comica, io in realtà, se devo, quando ho iniziato a scrivere delle cose mie, che è successo abbastanza tardi, perché non pensavo anche lì di poterlo fare, mi è successo perché a un workshop a cui ho partecipato, uno dei compiti era scrivere un monologo di Massimiliano Bruno, era questo workshop. siccome io quell'anno, perché non era stato un grande anno mio personale, non avevo fatto spettacoli a teatro perché non mandava, sai quelle botte di vita che dici non voglio essere felice mai quest'anno, e quindi non l'ho fatto. Quando è passato, ho visto che c'erano dei provini per andare una settimana in Umbria a fare solo quello. Quindi ho fatto questo provino, mi ha preso e tra i compiti c'era scrivere un monologo, non comico per forza, con una trama, io avevo una trametta, e avevo anche un po' rosicato perché io dicevo ah vabbè ma io faccio l'attrice, non è che un monotrice deve saper scrivere per forza, no, farò una figuraccia, invece in realtà è la cosa che uno mi è venuta meglio e due mi è piaciuto di più fare e era comico. In realtà se devo scrivere di solito mi viene più di scrivere qualcosa di umoristico, ma senza mai in realtà dire oh metto questa che è la battuta del secolo costruita benissimo, no, scrivo cose in realtà anche spesso come parlo io è abbastanza abbastanza paracula tutta la questione e magari certe cose fanno ridere, soprattutto io nella vigliaccheria non le sottolineo mai le battute perché se non dovessero ridere e puoi fare finta che erano a fare io ho detto una cosa sai quando quella cosa è tremenda quando vedi un comico che fa tutturu tuttu e gelo sì, sì, sì ecco quello mi ha sempre molto terrorizzato invece io le dico così serena senza manco fare la pausa così se ridono bene se no io ho solo detto una cosa io ho solo detto una serie di parole non mi importa che voi non abbiate riso e poi dietro pianti piani autoflagellazione sono una cagna e cose così esatto esatto come quando la gente non ride molto volevo fare una domanda sul tipo di umorismo che fai poi tu tu spesso diciamo fai la parodia dei romani diciamo così della troppo del romano della romanità diciamo portata all'estremo sì che c'è spesso in a Roma fondamentalmente fuori Roma è un po' più difficile portata a Crotone è un po' più raro però al teatro all'aperto di Siracusa qualcuno sia e tipo a battute facevi io c'ho lo spettacolo a Monte e io mi ricordo tipo c'è stavano i miei che tu un giorno non c'eri e dicevano ma oggi non c'è la fanella ma forse sta a fare lo spettacolo cioè pensavano che veramente stavi facendo lo spettacolo lì tu non hai paura a volte di venire cioè tu fai questo tipo di personaggio però magari vieni fraintesa e quindi la gente ci crede veramente cioè tu questa cosa come la vedi come la vivi tipo come una cosa che ha che bello siccome cioè tipo alla Sasha Baron Cohen tipo che tu fai finta di essere una cosa che non sei la gente ci crede e quindi ti diverte il fatto che ci creda oppure il non venire capita ti ti dà fastidio ma guarda allora ne sono delle due totalmente nel senso che né ridacchio perché li ho fregati anche questa volta non mi hanno capito né mi sento ferita cioè a me piacerebbe che capissero tutti però seppure uno non capisce ride comunque perché eh ci stanno due livelli no magari lui ha colto il primo e ha riso per quello alla fine va bene cioè nel senso che questa cosa pure la cosa mi chiedevi di te no perché fai la comica io in realtà facevo l'attrice queste cose mie o i monologhi o anche quello che non so la battuta e facevo la parodia del cabarettista romano ma a me in realtà faceva ride l'idea che una dell'età mia una ragazza fosse chiamata a sostituire un cabarettista dei 54 quello era l'idea mi faceva ride però queste sono cose che io un po' sempre detto ma in pizzeria o altre cose sono contenta adesso di poterle fare cioè adesso pure da Valerio al programma di Valerio posso fare cose che non potrei fare se stessi a caso aspettare le chiamate dei provini e quindi questo è un regalo enorme una libertà enorme però non ho mai pensato ok adesso anche comica perché va in realtà gli attori quando dico un'attrice comica ma un'attrice in teoria dovrebbe essere anche quello nel senso che sia comico che drammatico fa parte di tutto il pacchetto però non c'è uno studio io così machiavellico quando ho fatto a battuta il video di Milano che facevo finta di essere cabarettista a Milano dicevo una sequela di luoghi comuni dei romani contro Milano a me faceva ridere prendere in giro il provincialismo dei romani che ogni volta che vanno a qualche parte sai quelli penso magari riconosciate pure voi che dico che sono sono stato a Tokyo c'era sto posto il pigneto come può essere il pigneto a Tokyo invece è tutto ricondotto alla nostra città bellissima però uno diamoci pure una calmata e io prendevo in giro quello c'è gente che quindi entravo che ne so ero sticceria chiedevo i supplì quello mi diceva che non c'erano e partiva la musica di Psaico perché non si fanno i supplì c'è chi ha riso perché ha capito che io prendevo in giro quel provincialismo ma c'è anche chi ha riso perché c'era Psaico e perché è vero a Milano non fanno i supplì dramma non ci rimango male va bene pure così io in realtà intendevo un'altra cosa però alla fine hai riso va bene è sempre la cosa sui doppi livelli magari che poi Zalone è maestro per esempio su questa cosa ma spesso anche altri comici tipo Cuzzanti anche spesso ci gioca su quella cosa e va bene così allora questo in realtà mi fa da ponte a ben due domande che ti volevo fare però prima volevo fare un appunto su Massimiliano Bruno che io ho conosciuto non è vero ci siamo incrociati sul palco della premiazione di Fabrique du Cinéma di tanti anni fa quando Fabrique du Cinéma è una rivista di cinema premiava varie persone io e Martina Catuzzi dovevamo presentare tutto quanto lo spettacolo infatti mi sto chiedendo perché dovevano dare un premio a te no 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 io presentavo in cambio di cospicuo in cambio di cospicuo denaro ah scusa scusa in cambio di un sacco di soldi vi lascio indovinare la cifra esatta e a un certo punto sale sul palco per premiare non mi ricordo chi come si chiama la ragazza protagonista 1992 te a falco sì sì o Miriam Leone Miriam Leone Miriam Leone Miriam Leone sì sì hai fatto come le vecchie come mi nonna come si chiama quel bel ragazzo che fa quello sceneggiato ci stanno tutti due no era Miriam Leone sale Massimiliano Bruno per presentarle un premio che le stavamo dando e mentre cioè tipo prima parla e poi mentre parlava Miriam Leone lui sta a fianco a me e mi ha appoggiato il microfono sul cazzo senza che nessuno se ne accorgersse ha fatto questa gag ha fatto una gag simpatica di appoggiarmi il microfono sul cazzo ho pensato vedi che ridere che fa una cosa solo per ridere mi ha fatto ridere mi ha anche fatto un po' riflettere sarò sincero ho anche un po' riflettuto ho detto Massimiliano comunque però non ti ha chiesto il numero però però mi ha fatto ridere ti sei sentito un po' afferito perché era un po' no look capito cioè mentre parlava non ha detto niente poi mentre parlava l'altro ha abbassato il microfono e me l'ha appoggiato sul cazzo vedi che gag hai visto questa te la devi giocare è sofisticata a me ha fatto ridere che stesse tra virgolette sul palco prendendo per il culo solo me cioè nel senso che era una gag solo dedicata solo a mettermi per mettere una disagio a me io per come sono fatto io me sono tagliato e comunque però questo